Paesi, montagne, neve, campi di grano, la natura nella sua maestosità e sullo sfondo la donna del cuore. 91 poesie che partono dal 2016 e arrivano all'anno in corso con una lunga pausa per il lockdown dovuto al covid perché Giorgio Paglione, giovanissimo autore del libro, ha confessato di aver perso qualsiasi ispirazione durante il periodo di chiusura perché gli è mancato il contatto fisico con i luoghi amati, con la terra, con le persone. Lo sterno d'Italia, questo è il titolo del volume presentato a Campobasso in piazzetta Palombo per la manifestazione Libri in piazzetta sostenuta da Palazzo San Giorgio. Lo sterno d'Italia, da dove viene questo nome? Perché questo titolo? Allora lo sterno d'Italia perché l'Appennino viene visto in maniera molto geografica, scolastica come la spina dorsale d'Italia, invece per me è lo sterno dove sotto questo sterno a volte un po' duro risiede il cuore, il cuore di noi molisani ad esempio, siamo un popolo molto unito, persone forgiate diciamo sia dalle bufere di neve che da altre tempeste, invasioni barbariche varie. Il tuo cuore fisico però batte a Capracotta? Sì sì certo, io sono di Capracotta, vivo a Capracotta tranne una piccola parentesi universitaria tra cui a Campobasso che è una sorta di mia seconda famiglia. Come mai un libro di poesie? Perché guardi, io credo che la poesia debba un po' sprovincializzarsi, nel senso che è vista di solito come qualcosa di molto più elitario, invece la poesia deve arrivare al cuore e diciamo in qualche modo è l'occhio del poeta, di conseguenza vedere determinate cose in un certo modo e trasmetterle con la poesia deve arrivare a tutti. Il libro ha un'ottima prefazione e in più anche un bellissimo commento di Franco Arminio. Sì, vabbè Franco è un amico ma al di là di questo abbiamo condiviso un sacco di cose insieme e la tutela dei paesi, la valorizzazione dei paesi, seppur lui diciamo le fa sotto altre forme, io da giovane vorrei provare in qualche modo diciamo ecco a valorizzarli attraverso la poesia. Qual è il tema comune di queste poesie? Il tema comune è il paese, ma non è il paese inteso come la vita del paese o magari lo stare semplicemente così passivi in paese, ma è lo sguardo di un giovane verso le proprie origini, quindi magari carpire che anche in un albero una foglia diversa rispetto al giorno prima è qualcosa di magico, di meraviglioso.